ben trovato allora ti faccio vedere le combo da bolognesi le bolognesi disponibili le idrus 6 metri di trabucco vero carbonio o 7 metri un set di galleggianti una scaletta i piombi regolabili il molinello la cosa più importante il wenger 3000 doppia bobina leggerissimo ma bellissimo non abbiamo noi con filo tua scelta dal 0 14 al 0 20 14 0 16 0 18 0 20 un pacchettino di amoni montati tutto da 6 metri 100 euro da 7 metri 110 euro